Un viaggio nell'Italia che cambia, un viaggio tra ragazzi e ragazze, figli di stranieri che vivono nel nostro paese, che sono nati qui o che vi sono arrivati da piccoli. E la mostra Nuove Generazioni, i volti giovani dell'Italia multietnica, inaugurata a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte e curata dal giornalista Giorgio Paolucci. 23 pannelli fotografici e 7 video accompagnano i visitatori alla scoperta delle storie di una parte di quel milione e mezzo di giovani nati in Italia da genitori immigrati e cresciuti in quella che è diventata a tutti gli effetti la loro terra. Molti non se ne sono accorti ma l'Italia sta cambiando, ci sono un milione e mezzo di giovani che appartengono a queste nuove generazioni, cioè giovani o nati in Italia da genitori stranieri o arrivati qua da piccoli da altri paesi e che però considerano l'Italia, la società italiana, a tutti gli effetti come la loro casa. E quindi è un viaggio che racconta come vivono la loro esperienza in famiglia, rispetto alla scuola, all'università, al mondo del lavoro, esperienze di fatica ma anche esperienze di successo con il tentativo appunto di non di dare risposte preconfezionate ma di aprire un dialogo con quelli che vengono alla mostra e di rifare domande che forse si davano per scontate come la domanda che cosa vuol dire oggi in questo contesto essere italiani. La mostra Palazzo Lascari si è aperta al pubblico dal 6 al 24 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.